Portare nuovamente lo sport nelle cosiddette periferie, vedere Piazza San Paolo trasformarsi in un vero e proprio campo polivalente rende davvero queste giornate gioiose, restituisce il sorriso che purtroppo tanto spesso perdiamo a causa delle tantissime criticità che purtroppo in questa città sono fin troppo evidenti. Portare lo sport nelle periferie significa rispondere ad un'esigenza di inclusione sociale, di recupero della marginalità quindi oggi vedere tantissimi ragazzi, tantissimi giovani giocare, fare sport, divertirsi, socializzare ci riempie davvero il cuore di gioia e ci dà la forza per continuare a lottare, a combattere affinché queste cosiddette periferie tornino invece ad essere al centro della politica e della nostra agenda cittadina.